Gli appuntamenti di oggi Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 e 30 al Palla Recifina il decimo salone espositivo Per Noi Sposi alle 16 ospiti Raimondo Todaro e Francesca Tocca a seguire sfilate e sorteggio della Crociera MSC Per Noi Sposi, decimo salone espositivo dedicato al matrimonio e alla casa dall'abito sposa, sposo, location, bomboniere, servizio fotografico, arredamenti e antiquariato vi aspettiamo venerdì 6 dicembre alle ore 17 per il brindisi di inaugurazione sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 e 30 domenica 8 dicembre alle ore 16 ospiti dell'evento Raimondo Todaro e Francesca Tocca a seguire le sfilate di Lady Grazia e le spose di Master e il sorteggio di una Crociera MSC offerta da Per Noi Sposi e Agenzia Paesaggi Misteriosi partecipa e vinci, ingresso libero